Il tema della Summer School 2023, organizzata dall'Istituto Parri e della sua rete, è didattica della storia e territorio, paesaggi, luoghi di memoria, mosei diffusi. Si terrà come sempre dal 29 al 31 di agosto, quest'anno presso Casa Cervi a Gattatico, provincia di Reggio Emilia. Saranno tre intense sedute di lavoro dedicate rispettivamente al paesaggio come fonte per le discipline storiche, ai musei dedicati alla storia del territorio, quindi anche quelli virtuali, ai rapporti tra il territorio e le politiche memoriali, sia nazionali che europee. Come nelle ultime edizioni ci saranno le lezioni intervista con studiosi ed esperti. Inoltre, per coloro che parteciperanno in presenza, ci saranno i workshop generalmente molto apprezzati di carattere metodologico didattico, workshop che svilupperanno i temi affrontati nelle sedute in plenaria. Grazie. 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 è facile incontrare pezzi di una storia politica e sociale del nostro paese anche in luoghi dove non ci aspetteremmo. Tra queste testimonianze noi troviamo riferimenti a un passato più o meno remoto ma soprattutto troviamo riferimenti alla storia contemporanea del nostro paese al risorgimento, al fascismo, alla resistenza, a vittime del terrorismo e quindi in qualche modo i territori che attraversiamo anche se alla maggior parte degli italiani e delle italiane appaiono muti oppure in qualche modo appaiono segni di un paesaggio quotidiano ripetuto che non viene interrogato in realtà ci raccontano delle storie e anzi ci raccontano una storia, la storia del nostro paese che però non è raccontata in maniera ovviamente neutra perché la storia difficilmente lo è ma perché in modo particolare i luoghi della memoria che noi diciamo vediamo sul territorio sono luoghi fortemente selezionati dalle classi dirigenti locali e in qualche modo rispondono quindi ad un'esigenza commemorativa che è un'esigenza commemorativa legata ad aspetti di legittimazione di un percorso politico e di consolidamento di questo percorso. Da questo punto di vista quindi noi sappiamo che quando vediamo una statua di Garibaldi piuttosto che una statua di Giuseppe Mazzini oppure vediamo delle vie dedicate a partigiani oppure a pezzi del passato fascista sappiamo che lì dietro c'è alternativamente anzi in diverse stratificazioni c'è stato un desiderio di commemorare onorare e legittimare un pezzo della nostra storia poi eventualmente la capacità o la volontà di mantenere che è quel luogo commemorativo o quantomeno di non rimuoverlo. I viaggi della memoria sono un contenitore in cui è possibile inserire tantissimi approcci con cui gli istituti storici, docenti e gli operatori culturali accompagnano alla scoperta dei paesaggi possono esserci sentieri partigiani, trekking urbani qualunque visita guidata che viene fatta su un territorio per raccontarne la stratificazione i viaggi della memoria hanno al centro i luoghi i luoghi come chiave di lettura di intere epoche e possono essere approfonditi da vari punti di vista anche trasversalmente quindi l'importante è guardare al paesaggio guardare ai luoghi con uno sguardo storico e storicizzante Che un territorio con i suoi paesaggi, sui luoghi di memoria possa costituire uno straordinario strumento didattico e cosa nota dai docenti di tutti gli ordini di scuola la Summer 2023 in questo senso sarà l'occasione per fare il punto su questa straordinaria risorsa fondamentale per avvicinare i giovani al passato e coglierne la relazione col tempo presente e viceversa Nel corso degli anni e studiando il fascismo progressivamente ho cominciato a interrogarmi su questi luoghi e sulla loro permanenza e anche diciamo sulle geografie sulle ragioni per cui in certi luoghi questa permanenza appariva più significativa ed in altri invece la presenza di una toponomastica fascista in questo caso sto parlando di questo soprattutto perché in realtà per quanto riguarda l'architettura fascista il discorso è ancora più complesso e ancora più forte l'impronta del regime quanto tutto questo rimaneva nelle nostre città e in parte anche le ragioni per cui rimaneva o le ragioni per cui nel tempo ci sono state una serie di trasformazioni e in particolare diciamo negli ultimi 20-25 anni un altro elemento di particolare interesse è stato riaffiorare di una volontà di rappresentare personalità e eventi che avevano a che fare con la storia degli anni che vanno tra il 1922 e il 1945 con particolare riferimento a personalità che in qualche modo avevano un retaggio fascista o avevano compiuto le scelte fondamentali durante il regime Allora io credo che diciamo da questo punto di vista sia importante riflettere su questi aspetti e sono molto contenta che l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri abbia voluto in questi ultimi anni dedicare una parte consistente delle nostre energie collettive di vari di noi a diciamo costruire un progetto attorno a questi segni significativi diciamo non funzionali di un passato che è un passato difficile nel nostro paese e con cui malgrado i tanti anni ormai trascorsi dalla fine della guerra in qualche modo continuiamo a fare i conti per diverse ragioni Comunicazione museale storica ha avuto un forte rinnovamento negli ultimi decenni ai musei tradizionali composti soprattutto di reperti materiali concreti e di lunghe descrizioni scritte su cartelloni stanno progressivamente subentrando a volte con interessanti forme di mediazione musei più tecnologici e interattivi un esempio di questo è il museo autovisivo della resistenza che è studio azzurro con la collaborazione di alcuni storici tra cui Chi vi parla inaugurò nel giugno del 2000 a Fosdinovo in provincia di Massa Carrara un museo composto soltanto di spezzoni di interviste a testimoni che tuttavia riescono a costruire una narrazione di quella che è stata la resistenza in quelle zone ma direi anche di quelle che sono le problematiche generali della resistenza armata e civile in Italia ormai questi musei si stanno diffondendo sempre di più le possibilità che la tecnologia e l'interattività danno sono fondamentali e riescono a fare sì che il visitatore non sia soltanto un oggetto passivo che deve recepire un messaggio ma possa esso stesso diventare partecipe al percorso museale un percorso museale che può ritagliarsi personalmente attraverso le varie applicazioni che sono presenti in un museo e la loro interattività a seconda dei suoi interessi anche nella summer 2023 accanto allo sguardo privilegiato degli storici non mancherà quello di studiosi che si occupano di discipline affini o comunque di interesse per gli storici qualche anno fa si trattò del contributo della semiologia con un intervento che fu molto significativo da parte di Valentina Pisanti quest'anno è la volta dell'archeologia intesa non come scienza dell'antico ma del passato tucù compreso quello più vicino a noi insomma archeologia come scienza e metodologia soprattutto applicabile a tutte le tracce del passato comprese quelle più recenti l'archeologia contemporanea come viene chiamata non può non dialogare con la storia contemporanea tornendo chiavi nuove ad esempio per leggere e raccontare i luoghi di memoria quest'anno la summer school si terrà a casa cervi nelle campagne tra Reggio Emilia e Parma in un luogo di memoria particolare è la casa colonica di una famiglia contadina di una famiglia del novecento di una famiglia che ha attraversato la storia d'Italia la storia del fascismo e soprattutto la storia dell'antifascismo è la storia di una famiglia che ha scelto ha scelto di resistere ha scelto di essere antifascista prima degli altri e che purtroppo come forse è noto nella qualche modo diffusa storia della resistenza italiana ha lasciato sette figli maschi sette figli maschi di questa famiglia sul campo uccise dai fascisti il 28 dicembre del 43 ma casa cervi è un luogo di vita è un luogo dove non si ricorda soltanto il sacrificio anzi si ricordano soprattutto le scelte che questa famiglia di contadini ha fatto quindi il luogo di memoria è strutturato attorno alla casa colonica attorno alla casa oggi trasformata ormai da molti anni in percorso museale e in plesso culturale è di recentissima realizzazione peraltro il nuovo percorso del museo che i partecipanti della summer school avranno occasione di visitare con una davvero particolare esperienza di visita molto immersiva che stiamo progettando ad hoc in modo tale che sia davvero un'esperienza quella della summer school a casa cervi qualcosa di unico qualcosa che in qualche modo si fonda con il paesaggio che sta attorno a questo luogo a questo luogo a questo luogo è un'esperienza a questo luogo